Abbiamo fatto un lavoro veramente molto molto buono questi giorni, prima di tutto per mille motivi. Sappiamo che in questo momento la squadra non è in grande balance dal punto di vista del condizionamento perché ci sono giocatori che hanno avuto Covid, sono stati due settimane, tre settimane fuori di squadra e ci sono giocatori che hanno avuto problemi vari, uguale dove il motivo non è stato solo Covid è sicuro aumentare la qualità di nostro condizionamento, avere un shape molto più buono e obiettivo numero uno in questo momento per avere un bilancio, un equilibrio molto più alto rispetto alle ultime due partite dove abbiamo faticato tantissimo prima di tutto da questo punto di vista. Brindisi, che cosa dire a Brindisi? È veramente una bella sfida, sfida per orgoglio, per Pride, diciamo così. Perché? Perché incontriamo la squadra che è prima in classifica, ma non solo perché sono prima in classifica ma perché hanno vinto a Milano, a Bologna, a Sassari, sai? E l'unico posto dove hanno perso è a Venezia, sai? Vorrei dire che già hanno giocato contro le squadre più forti in campionato, contro tutti i fuori e sono primi in classifica. E basta dire questo. Cioè Pugiu, per noi è una bellissima sfida, incontrare la squadra che conosciamo perché abbiamo giocato due partite a Olbia, andiamo a preparare il meglio possibile, recuperare più o meglio possibile ragazzi che non sono in ottimo shape e sfidare se stessi.